Il padre del fuoriclasse Djokovic, padre Djokovic, Novak come Spartacus, simbolo del mondo libero e ha proprio ragione. Il nome di battesimo è impronunciale. Sdrian, Djokovic, padre di Novak, ha preso le difese del figlio bloccato in un hotel a Melbourne. Da sano, pensate un po', più sano di Djokovic chi c'è. È diventato il simbolo e il leader del mondo libero, un mondo di nazioni e persone povere e oppresse, le sue parole ai media russi. Potranno incarcerarlo stasera, incatenarlo domani, ma la verità è come l'acqua, perché trova sempre la sua strada. Ha proprio ragione. Novak è lo Spartacus del nuovo mondo, che non tollera l'ingiustizia, il colonialismo e l'ipocrisia. Aggiungerei la discriminazione tra persone. Quindi il grandissimo Djokovic, vincitore morale del torneo, fuoriclasse assoluto, non solo nel tennis, ma nella vita. L'Australia si conferma un paese in mano alla cabala, ma mi piace questa immagine. Ma la verità è come l'acqua, trova sempre la sua strada. Ed è nato un caso internazionale. Djokovic è serbo, fa parte di questo grande e fiero popolo, che è il popolo serbo, e gli dobbiamo tutti una grande riconoscenza. Vi invito a iscrivervi al mio canale Giorgio Riccardin, a iscrivervi anche al mio canale muletto Giorgio Riccardin 2, su YouTube, che presto tornerà utile. Ho paura, perché sapete che YouTube fa molto presto a tirare giù i canali scomodi come il mio. E vi ricordo anche il mio canale Telegram, sempre Giorgio Riccardin. Grazie e grande Djokovic, grande Djokovic che è sano, che è più sano, non si può. Ed è sano soprattutto anche nella testa. Alla prossima videopillolina. Grazie a tutti.